ai concorrenti del grande fratello si perdona tutto o quasi al primo posto di quel quasi ci sono le espressioni blasfeme nessuna bestemmia sin dagli esordi del reality show è mai rimasta impunita sia uscita dalla bocca di un nip o di un vip nell'edizione attualmente in corso sino ad ora nessuno si è lasciato andare in tal senso o almeno così sembrava alex schweiser nelle ultime ore potrebbe essersi spianato la strada verso la squalifica il marciatore in un momento di confidenza con fiordaliso e giampiero mughini si è lasciato andare con disinvoltura ad una spinosa confessione a quanto pare schweiser ha bestemmiato due volte all'interno della casa più spiata d'italia in entrambi i casi si trovava sul tapis roulant lo sportivo dedica all'allenamento molte ore della sua giornata poiché come è noto punta alle olimpiadi di parigi 2024 stando al racconto del diretto interessato esercitandosi ha rischiato di scivolare ed ecco il perché dell'intemperanza verbale scusate ma stavo per rischiare la vita le sue parole in un attimo sono rimbalzate ovunque sui social pertanto è impensabile che non giungano alle orecchie degli autori del grande fratello l'arcinota intransigenza del reality show nei confronti delle bestemmie farà il resto sicuramente il primo passo sarà rintracciare i video incriminati e verificare quanto affermato dall'atleta un eater che sa di déjà vu di recente infatti schweiser ha protestato vigorosamente minacciando di abbandonare il gioco per un motivo analogo il 38 n ha svelato pubblicamente che beatrice luzzi avrebbe ammesso di essere interessata a lui mandando l'attrice su tutte le furie peccato che la clip di questo fantomatico scambio non sia mai saltata fuori probabilmente perché non esiste grande fratello i vip squalificati per bestemmia alex schweiser dunque rischia di seguire le orme degli illustri vipponi che l'hanno preceduto l'ultima edizione del grande fratello vip è stata teatro di una squalifica lampo per bestemmia riccardo fogli è stato messo alla porta a circa 11 ore dal suo ingresso nella casa pur non avendo pronunciato l'imprecazione per esteso doppia espulsione al gf vip 5 per la medesima ragione prima per stefano bettarini e poi per denis dosio resta imbattuto il record tristemente stabilito all'isola dei famosi 2022 da silvano michetti dei cugini di campagna il musicista è stato qualificato per aver bestemmiato in diretta pochi secondi dopo aver messo piede in honduras per completezza ricordiamo che il primo espulso dal surviving game fu massimo ceccherini nel lontano 2006 il comico toscano rimase escluso dalla prova ricompensa e se ne andò dalla palapa imprecando in modo inequivocabile a microfono aperto lontano 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 Grazie a tutti.